la tempesta di neve volano i corsieri per i colli calpestan la neve profonda ecco appartato un tempio di dio si vede solitario a un tratto la tempesta è tutto intorno la neve cade a fiocchi un corvo nero rischiando con l'ala volteggia sopra la slitta il gemere fatidico annunzia tristezza i corsieri frettolosi guardano attenti nella scura lontananza sollevando la criniera sukovski alla fine del 1811 in un tempo per noi memorabile viveva nel suo possesso di niena radovo il buon gavrila gavrilo vicerre egli aveva fama in tutto il distretto di ospitalità e cordialità i vicini andavano ogni momento da lui a mangiare a bere a giocare di cinque copè che al boston con sua moglie plascovia petrovna e alcuni per vedere la loro figliuola maria gavrilovna una ragazza diciassettenne ben fatta pallida era considerata un partito ricco e molti la destinavano a sé o ai figli maria gavrilovna era stata educata sui romanzi francesi e per conseguenza era innamorata l'oggetto da lei scelto era un povero alfiere dell'esercito che si trovava in licenza nel proprio villaggio si intende da sé che il giovanotto era infiammato ad un'eguale passione e che i genitori della sua amata notando la loro vicendevole inclinazione avevano proibito alla figlia persino di pensarci e lui lo ricevevano peggio di un assessore a riposo i nostri amanti erano in corrispondenza e ogni giorno si vedevano a quattro occhi nel lapineto presso la vecchia cappella là si giuravano l'un l'altro eterno amore si lamentavano della sorte e facevano svariate supposizioni scrivendosi e discorrendo in questo modo essi cosa sa è naturale giunsero al ragionamento seguente se noi non possiamo vivere l'uno senza l'altro e il volere dei genitori crudeli ostacola la nostra felicità non potremmo farne senza si intende che questa idea felice venne da prima in mente al giovanotto e che piacque assai all'immaginazione romanzesca di Maria Gavrilovne giunse l'inverno e fece cessare i loro incontri ma la corrispondenza ne divenne tanto più animata Vladimir Nikolaievich in ogni lettera la supplicava di darsi a lui di sposarsi segretamente di nascondersi per qualche tempo di gettarsi poi ai piedi dei genitori che certamente sarebbero stati infine commossi dall'eroica costanza e dalla sventura degli amanti e avrebbero senza dubbio detto loro ragazzi venite nelle nostre braccia Maria Gavrilovna esitò a lungo una quantità di disegni di fuga vennero respinti finalmente e la consentì il giorno fissato doveva non cenare e ritirarsi nella sua stanza col pretesto di un mal di capo la sua cameriera era nella congiura tutte e due essi dovevano uscire nel giardino per la scalinata posteriore dietro al giardino trovare una slitta pronta sedersi e andare a cinque verste da Niena Radovo al paese di Zatrino direttamente in chiesa dove Vladimir doveva già attenderle alla vigilia della giornata decisiva Maria Gavrilovna non dormì per tutta la notte preparava la sua roba involtava la biancheria e i vestiti scrisse una lunga lettera a una signorina sensibile sua amica un'altra ai suoi genitori ella li salutava con le espressioni più commoventi scusava il proprio atto con la forza invincibile della passione e finiva dicendo che avrebbe stimato il momento più felice della propria vita quello in cui le fosse permesso di gettarsi ai piedi dei carissimi suoi genitori sicillate tutte e due le lettere con un piccolo sigillo di tula sul quale erano rappresentati due cuori fiammeggianti con una scritta adatta ella si gettò sul letto proprio avanti all'alba e si assopì ma anche allora orribili fantasticherie la svegliavano a ogni momento ora le sembrava che nell'istante stesso in cui si sedeva nella slitta per andare a sposarsi suo padre la fermasse la trascinasse per la neve con tormentosa rapidità e la gettasse in un sotterraneo oscuro senza fondo ed ella volava giù a capofitto con un inspiegabile struggimento di cuore ora vedeva Vladimir colicato sull'erba pallido insanguinato egli morendo la pregava con voce penetrante di affrettarsi a sposarlo altre difformi insensate visioni aleggiavano dinanzi una dopo l'altra finalmente ella si alzò più pallida del solito e con un non finto mal di capo i padre e la madre notarono la sua inquietudine la loro tenera premura e le domande incessanti chi hai masha non sei malata masha le dilanevano il cuore ella cercava di tranquillarli di sembrare allegra e non poteva venne la sera mi pensiero che ormai per l'ultima volta passava una giornata in mezzo alla sua famiglia e stringeva il cuore si reggeva appena salutava segretamente tutte le persone tutte le cose che la circondavano servirono la cena il suo cuore si mise a battere forte con voce tremante dichiarò che non aveva voglia di cenare e cominciò a salutare il padre e la madre essi la baciarono e secondo il solito la benedissero e là per poco non si mise a piangere venuta nella sua stanza si gettò su una poltrona e pianse a calde lagrime la donna cercava di persuaderla a calmarsi e a farsi coraggio tutto era pronto mezz'ora dopo mascia doveva lasciare per sempre la casa paterna la sua stanza la dolce vita virginale fuori c'era una tempesta di neve il vento ululava le imposte tremavano e sbattevano tutto le sembrava una minaccia e un triste presagio ben presto in casa tutto tacque e si addormentò mascia si imbaccuccò in uno scialle mise una vestaglia da inverno prese in mano una cassettina e uscì sulla scalinata posteriore la serva la seguiva portando due fagotti tutte e due scesero nel giardino la tempesta di neve non si calmava il vento soffiava in senso contrario come sforzandosi di fermare la giovane malfattrice esse giunsero a stento fino in fondo al giardino sulla strada la slitta le aspettava i cavalli intirizziti non stavano fermi il cocchiere di vladimir passeggiava davanti alle stanghe trattenendo gli impetuosi egli aiutò la signorina e la sua donna a sedersi a mettere a posto i fagotti e la cassettina afferrò le redini e i cavalli presero il volo affidata alla signorina alle cure della sorte e all'arte del cocchiere a tieresca volgiamoci al nostro giovane amante per tutto il giorno vladimir era stato in movimento al mattino era stato dal prete di zadrino con molta fatica si era messo d'accordo con lui poi era andato a cercare i testimoni fra i possidenti vicini il primo a cui si presentò il quarantenne cornetta a riposo della fin acconsentì con piacere questa avventura assicurava gli ricordava il tempo di una volta e le birichinate degli usseri egli persuase vladimir a rimanere a pranzo da lui e gli assicurò che per gli altri due testimoni non ci sarebbe stata difficoltà infatti subito dopo pranzo apparvero il geometra schmidt con baffi e speroni e il figlio del capitano capo della polizia un ragazzo di un sedici anni che era entrato da poco negli ulani essi non solo accolsero la proposta di vladimir ma gli giurarono perfino ad essere pronti a sacrificare la vita per lui vladimir li abbracciò con entusiasmo e andò a casa a prepararsi aveva cominciato a far buio da un pezzo e gli mandò il suo affidato tieresca a niena radovo con la sua troica e con istruzioni particolarizzate esatte e per sé fece attaccare una piccola slitta a un cavallo e solo senza cocchiere si diresse verso zadrino dove dopo un due ore doveva giungere anche maria gavrilovna la strada gli era familiare e non c'erano che venti minuti di cammino ma appena vladimir dai dintorni del paese uscì nella pianura si levò il vento e venne una tal tempesta di neve che egli non vide più nulla in un sol momento la strada fu coperta le vicinanze scomparvero in una tenebra torpida giallognola attraverso la quale volavano bianchi fiocchi di neve il cielo si era fuso con la terra vladimir si trovò nella campagna e in vano voleva raggiungere di nuovo la strada il cavallo camminava all'avventura e ogni momento o entrava in un mucchio di neve o affondava in una buca ogni momento la slitta si rovesciava vladimir cercava soltanto di non perdere la direzione giusta gli sembrava che fosse passata mezz'ora e non era ancora giunto fino al boschetto di zadrino passarono ancora circa dieci minuti il boschetto non c'era verso di vederlo vladimir andava per un terreno solcato da borri profondi la tempesta di neve non si calmava il cielo non si schiariva il cavallo cominciava a stancarsi ed egli era grondante di sudore malgrado che ogni momento fosse nella neve fino alla cintola finalmente vide che non andava dalla parte giusta vladimir si fermò cominciò a ricordare a riflettere e si convinse che doveva prendere a destra si avviò a destra il suo cavallo camminava appena gli era più di un'ora che era in cammino zadrino doveva essere poco lontano ma andava andava e la pianura era senza fine non c'erano che mucchi di neve e borri ogni momento la slitta si rovesciava ogni momento egli la tirava su il tempo passava vladimir cominciava ad essere fortemente inquieto finalmente da una parte cominciò a nereggiare qualcosa vladimir voltò in quella direzione avvicinando si vide un boschetto si ha lodato il dio pensò adesso è vicino passò accanto al boschetto sperando di raggiungere subito la strada nota o di girare intorno al bosco zadrino era subito dietro di esso ben presto trovò la strada ed entrò nella tenebra prodotta dagli alberi spogliati dall'inverno il vento lì non poteva infuriare la strada era liscia il cavallo s'era l'infrancato e vladimir si calmò ma andava andava e zadrino non c'era verso di vederlo il boschetto era senza fine vladimir vide con terrore che era entrato in un bosco ignoto la disperazione lo prese percosse il cavallo la povera bestia si mise ad andare al trotto ma ben presto cominciò ad essere spossata e dopo un quarto d'ora si mise al passo malgrado tutti gli sforzi dello sventurato vladimir a poco a poco gli alberi si fecero più radi e vladimir uscì dal bosco zadrino non c'era verso di vederlo doveva essere circa mezzanotte gli scolgaron le latrime dagli occhi andò all'avventura il tempo si era calmato le nubi si erano aperte dinanzi a lui si stendeva una pianura coperta ad un bianco tappeto ondulato la notte era abbastanza chiara e gli vide non lontano un villaggetto che consisteva di quattro o cinque fuochi vladimir andò verso di esso alla prima piccola isba saltò giù dalla slitta corse a una finestra e cominciò a picchiare dopo alcuni minuti l'imposta di legno si alzò e un vecchio mise fuori la sua barba canuta che ti bisogna? è lontano Zadrino? sei lontano Zadrino? sì sì è lontano non è lontano ci sarà una decina di verste a questa risposta vladimir si prese per i capelli rimase immobile come un uomo condannato a morte e tu di dove sei? seguitò il vecchio vladimir non era d'umore da rispondere alle domande vecchio disse gli puoi trovarmi dei cavalli che mi portino fino a Zadrino? che cavalli vuoi che abbiamo? rispose il contadino ma non posso prendere almeno una guida gli pagherò quanto vorrà aspetta disse il vecchio abbassando l'imposta ti manderò mio figlio lui ti accompagnerà vladimir cominciò ad aspettare non era passato mezzo minuto che gli si mise a picchiare di nuovo l'imposta si alzò e la barba si fece vedere che ti bisogna? e che fa tuo figlio? esce subito si mette le scarpe si è intirizzito forse? entra a scaldarti grazie manda presto tuo figlio la porta cicolò uscì fuori un giovanotto con un randello e andò innanzi ora indicando ora cercando la strada coperta da mucchi di neve che ora è? gli domandò Vladimir ma farà già presto giorno? rispose il giovane contadino Vladimir non diceva neppure una parola cantavano i galli ed era già chiaro quando raggiunse lo zadrino la chiesa era chiusa Vladimir pagò la guida e andò nella corte del prete nella corte la sua troica non c'era che notizia lo attendeva? ma torniamo ai buoni proprietari di Niena Radovo e guardiamo che cosa accadde loro nulla i due vecchi si svegliarono e vennero in salotto Gavrila Gavrilovic in berretto da notte e giacca di flanella la scovia Petrovna in veste da camera ovattata servirono il samovar e Gavrila Gavrilovic mandò una ragazzina a informarsi da Maria Gavrilovna come stesse e come avesse riposato la ragazzina tornò annunciando che la signorina aveva riposato male ma che adesso stava meglio e che sarebbe venuta subito in salotto infatti la porta si aperse e Maria Gavrilovna si avvicinò per salutare il babbino e la mammina come va la tua testa Masha? domandò Gavrila Gavrilovic meglio babbino rispose Masha ieri probabilmente t'hanno fatto male le esalazioni di carbone Masha disse Praskovia Petrovna può darsi mammina rispose Masha la giornata passò felicemente ma nella notte Masha si ammalò mandarono a prendere un medico in città e gli venne verso sera e trovò l'ammalata in delirio si manifestò un forte febbrone e la povera ammalata stette per due settimane sull'orlo della tomba in casa nessuno sapeva della fuga progettata le lettere da lei scritte il giorno prima furono bruciate la sua cameriera non diceva nulla a nessuno paventando l'ira dei signori i prete il cornetta a riposo il geometro coi baffi e il piccolo ulano stette rocchetti e non senza ragione il cocchiere Tireshka non svelò mai nulla di superfluo neppur taubriaco così il segreto fu mantenuto da più di una mezza tozzina di congiurati ma Maria Gavrilo non la stessa nell'incessante delirio svelava il suo segreto tuttavia le sue parole erano così incoerenti che la madre la quale non si allontanava dal suo letto pote capire da essa soltanto che sua figlia era follemente innamorata di Vladimir Nikolaievich e che probabilmente l'amore era la causa della sua malattia e la si consigliò con suo marito con alcuni vicini e infine tutti decisero all'unanimità che si vedeva che questo era il destino di Maria Gavrilovna e quel che è scritto è inevitabile che povertà non è peccato che si vive non con la ricchezza ma con la persona e simili i proverbi morali sono straordinariamente utili in quei casi in cui da noi ben poco possiamo escocitare la nostra giustificazione frattanto la signorina cominciò a rimettersi Vladimir era un pezzo che non lo si vedeva in casa di Gabrila Gavrilovic egli era spaventato dalle solite accoglienze stabilirono di mandarlo a chiamare e di comunicargli l'inaspettata fortuna il consenso per il matrimonio ma quale fu lo stupore dei proprietari di Nieneradovo quando in risposta al loro invito ricevettero da lui una lettera semifolle egli dichiarava loro che non avrebbe mai più messo piede in casa loro e pregava che dimenticassero uno sventurato per cui unica speranza rimaneva la morte alcuni giorni dopo seppero che Vladimir era partito per raggiungere l'esercito si era nel 1812 per lungo tempo non osarono darne notizia a Masha che si ristabiliva ella non ricordava mai Vladimir da alcuni mesi dopo avendo trovato il nome di lui nel numero di coloro che s'erano distinti ed erano stati gravemente feriti sotto volo di no cadde svenuta e temevano che le tornasse il suo febbrone tuttavia grazie a Dio lo svenimento non ebbe seguito un'altra cosa triste l'afflisse mancò Gavrila Gavrilovic lasciando la erede di tutto il possesso ma l'eredità non era di consolazione ella partecipava sinceramente al dolore della povera Plaskovia Petrovna giurava di non lasciarla mai tutte due esse lasciarono Niena Radovo luogo di tristi ricordi e andarono a stare nella tenuta di Asterischi i pretendenti anche qui giravano attorno alla gentile e ricca signorina da marito ma ella non dava la minima speranza a nessuno la madre a volte cercava di persuaderla a scegliersi un compagno Maria Gavrilovna scoteva il capo e si faceva pensosa Vladimir non c'era più era morto a Mosca alla vigilia dell'entrata dei francesi la sua memoria sembrava sacra per Masha per lo meno ella conservava tutto quello che poteva ricordarlo i libri un tempo letti da lui i suoi disegni la musica e i versi da lui copiati per lei i vicini venuti a saper tutto si meravigliavano della sua costanza e aspettavano con curiosità l'eroe che doveva finalmente trionfare della triste fedeltà di quella artemide virginale intanto la guerra era gloriosamente finita i nostri reggimenti tornavano dall'estero il popolo correva loro incontro la musica suonava le canzoni conquistate vive Henry IV vive Henry Catr balzer tirolesi e aria degli Yoconde gli ufficiali entrati in campagna quasi adolescenti ritornavano cresciuti nell'aria di guerra coperti di croci i soldati chiacchieravano allegramente fra loro introducendo ogni momento nel discorso parole tedesche e francesi tempo indimenticabile tempo di gloria e di entusiasmo come batteva forte un cuore russo alla parola patria come erano dolci le lacrime dell'incontro con quale concordia univano i sentimenti di orgoglio nazionale e di amore per il sovrano e per lui che momento era quello le donne le donne russe allora furono incomparabili la loro consueta freddezza era scomparsa il loro entusiasmo era davvero inebriante quando accogliendo i vincitori esse gridavano urrà e gettavano in aria le cuffiette quale degli ufficiali d'allora non riconosce ad essere stato debitore alla donna russa del premio migliore più prezioso in questa epoca splendida maria gavrilovla viveva con la madre nel governatorato di asterischi e non vide come le due capitali festeggiarono il ritorno delle truppe ma nei distretti e nei villaggi l'entusiasmo generale fu forse ancora più forte l'apparizione di un ufficiale in questi luoghi era un vero trionfo per lui e l'amoroso in frac si trovava male avendolo per vicino abbiamo già detto che malgrado la sua freddezza maria gavrilovna era sempre circondata da pretendenti come prima ma tutti dovettero cedere quando comparve nel suo castello il ferito colonnello degli usseri burmin col nastro dell'ordine di san giorgio all'occhiello e con un pallore interessante come dicevano le signorine d'allora egli aveva quasi 26 anni era venuto in licenza nei suoi possessi ed erano vicini al villaggio di maria gavrilovna maria gavrilovna lo distingueva molto in presenza di lui la sua solita pensosità si ravvivava non si poteva dire che la civettasse con lui ma il poeta notando la sua condotta avrebbe detto se amor non è che è dunque burmin era davvero un giovanotto molto simpatico aveva appunto quell'intelligenza che piace alle donne l'intelligenza dell'opportunità e dell'osservazione senza nessuna pretesa e non curantemente canzonatoria il suo contegno con maria gavrilovna era semplice e disinvolto ma qualunque cosa ella dicesse facesse l'anima e gli sguardi di lui la seguivano sempre egli sembrava di abitudini tranquille e modeste ma la voce pubblica assicurava che un tempo era stato uno scapestrato tremendo e questo non gli nuoceva nell'opinione di maria gavrilovna la quale come del resto tutte le giovani donne in generale perdonava con piacere le birichinate che scoprivano l'arditezza e l'impetuosità del carattere ma più di tutto più della sua delicatezza più della piacevole conversazione più del pallore interessante più del braccio fasciato il silenzio del giovane eussero eccitava più di tutto la curiosità e l'immaginazione di lei ella non poteva non riconoscere che gli piaceva molto probabilmente anche lui con la sua intelligenza ed esperienza poteva già aver notato che ella lo distingueva ma come mai dunque non l'aveva ancora veduto ai suoi piedi e non aveva ancora udito la sua dichiarazione che cosa lo tratteneva la timidezza inseparabile dall'amore verace l'orgoglio o la civetteria dell'astuto seduttore per lei era un enigma dopo averci pensato per benino concluse che la timidezza era l'unica causa e decise di rincuorarlo con una maggior premurosità e secondo le occasioni perfino con la tenerezza preparava lo scioglimento più inaspettato e attendeva con impazienza il momento ad una romantica spiegazione un segreto di qualunque genere esso sia è sempre penoso per un cuore femminile le sue operazioni militari ebbero il successo desiderato almeno Burmin divenne così pensieroso e i suoi occhi neri si fermavano con tale fuoco su Maria Gavrilovna che il momento decisivo sembrava ormai prossimo i vicini parlavano del matrimonio come di una questione già definita e la buona Praskovia Petrovna era contenta che la sua figliuola si fosse finalmente trovato un fidanzato degno la vecchietta un giorno sedeva sola in salotto disponendo il gran solitario quando Burmin entrò nella stanza e chiese subito notizie di Maria Gavrilovna è in giardino rispose la vecchietta andate da lei e io vi aspetterò qui Burmin ci andò e la vecchietta si fece il segno della croce e pensò chissà che la cosa non si definisca oggi stesso Burmin trovò Maria Gavrilovna vicina allo stagno sotto un salice con un libro in mano e vestita di bianco come una vera eroina di romanzo dopo le prime domande Maria Gavrilovna si mise apposta di sostenere la conversazione rendendo più forte in questo modo il reciproco turbamento dal quale non ci si poteva liberare se non con una spiegazione improvvisa e decisiva così accadde appunto Burmin sentendo la difficoltà della sua situazione dichiarò che da lungo tempo cercava l'occasione di svelare il proprio cuore e richiese un momento d'attenzione Maria Gavrilovna chiuse il libro e abbassò gli occhi in segno di assenso vi amo disse Burmin vi amo appassionatamente Maria Gavrilovna arrossì e piegò il capo ancora più in basso ho agito impudentemente abbandonandomi a una cara consuetudine alla consuetudine di vedervi e di ascoltarvi ogni giorno Maria Gavrilovna ricordò la prima lettera di sempre adesso ormai è tardi per oppormi alla mia sorte il ricordo di voi la vostra cara impareggiabile immagine da ora innanzi sarà il tormento e la consolazione della mia vita ma mi rimane ancora da compiere un penoso dovere svelarvi un segreto tremendo e porre fra noi un'insormontabile barriera e se sempre esistita interruppe vivacemente Maria Gavrilovna io non avrei mai potuto essere vostra moglie lo so che dispose egli piano lo so che un tempo avete amato ma la morte tre anni di compianto mia buona mia cara Maria Gavrilovna non cercate di privarmi dell'ultima consolazione e pensiero che voi avreste consentito a rendermi felice se tacete in nome di Dio tacete mi dilaniate lo so lo so lo sento che sareste mia ma io sono l'essere più infelice sono ammogliato Maria Gavrilovna lo guardò con stupore sono ammogliato seguitava Burmin sono già tre anni che sono ammogliato e non so chi sia mia moglie e dove sia e se mi sarà dato di incontrarla mai che dite esclamò Maria Gavrilovna com'è strano seguitate racconterò dopo ma seguitate fatemi il favore al principio del 1812 disse Burmin mi affrettavo verso Filna dove si trovava il nostro reggimento un giorno giunto la sera tardi a una tappa volevo ordinare che fossero subito attaccati i cavalli quando a un tratto si levò una gran tempesta di neve e il maestro delle poste e i postiglioni mi consigliarono di lasciarla passare io li ascoltai ma una inquietudine incomprensibile si impadronì di me sembrava proprio che qualcuno mi spingesse frattanto la tempesta di neve non si calmava io persi la pazienza ordinai di nuovo ad attaccare e partì in piena bufera al postiglione venne in mente di passare per il fiume cosa che ci doveva abbreviare il cammino di traverste le rive erano coperte di neve il postiglione oltrepassò il punto dove si usciva sulla strada così capitammo in parti ignote la bufera non si calmava io vidi un lumicino e ordinai che s'andasse là lungemmo in un villaggio nella chiesa di legno c'era luce la chiesa era aperta dietro il muro di cinta erano ferme alcune slitte della gente camminava sul sagrato qua qua gridarono alcune voci io ordinai al postiglione di avvicinarsi di grazia dove ti sei fermato mi disse qualcuno la sposa è svenuta il prete non sa che fare noi stavamo per tornare indietro vieni fuori in fretta io saltai fuori dalla slitta in silenzio ed entrai nella chiesa debolmente illuminata da due o tre candele una fanciulla sedeva su una panca in un angolo buio della chiesa un'altra le stropicciava le tempie sia lodato il dio disse questa finalmente siete arrivato ci mancava poco che faceste morire la signorina il vecchio sacerdote si avvicinò a me domandandomi ordinate che si cominci cominciate cominciate padre risposi io distrattamente tirarono su la fanciulla mi sembrò che non fosse brutta un'incomprendsibile imperdonabile leggerezza mi posi vicino a lei dinnanzi all'inginocchiatoio il sacerdote aveva fretta tra i uomini e la cameriera sostenevano la sposa ed erano occupati soltanto di lei ci sposarono baciatevi ci dissero mia moglie rivolse verso di me il suo viso pallido io volevo baciarla lei gridò ah non è lui non è lui e cadde priva di sensi i testimoni mi fissarono con occhi spaventati io mi voltai usci dalla chiesa senza nessun impedimento mi precipitai nella kibitka e gridai via dio mio gridò maria gavrilovna e non sapete che cosa sia successo alla vostra povera moglie non lo so rispose burmì non so come si chiama il villaggio dove mi sono sposato non mi ricordo da che tappa ero partito in quel tempo attribuivo così poca importanza alla mia delittuosa birichinata che allontanandomi dalla chiesa mi addormentai e mi svegliai la mattina del giorno dopo ormai alla terza tappa il servo che allora era con me morì nella campagna sicché non ho neppur la speranza di rintracciare con lei che ha così crudelmente presa in giro e che adesso è così crudelmente vendicata io mio dio mio disse maria gavrilovna prendendogli la mano allora eravate voi e non mi riconoscete burmì impallidì e si gettò ai suoi piedi grazie a tutti 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 grazie a tutti